sono urbano della sani moreno Volkswagen Audi di Fuscecchio oggi vi presento questa bellissima golf sports one arrivata proprio ora nel nostro parco usato allora alcune notizie specifiche golf sports one 1.6 turbodiesel 110 cavalli dell'anno 2014 unico proprietario solamente 82 mila chilometri ve li farò vedere poi dal tachimetro tutti dagli andati presso la nostra officina Volkswagen allora da queste immagini vi facciamo vedere come è stata tenuta questa vettura in modo veramente eccellente qualche accessorio anche perché è molto molto accessoriata e ve ne dico alcuni più importanti cerchi lega specifici originali dal 17 pollici sensori di parcheggio posteriore e anteriori fare anteriore xeno luci di urina led un'altra chicca tettino apribile poi internamente troviamo la sua tappezzeria in misto tessuto alcantara il precedente proprietario non fumava quindi non troviamo né buchi di sigarette né usura né strappi nessun cattivo odore anche perché è stata lavata e rigenizzata al vapore come il nostro solito quindi la macchina internamente è veramente eccezionale cambio manuale navigatore climatizzatore automatico volante multifunzione col cruise control come vi ho detto prima 81 mila chilometri un'altra cosa specchietti esterni regola regolabili elettricamente ripiegabili anche elettricamente questa vettura è già disponibile presso il nostro punto vendita potete già quindi telefonare per prendere un appuntamento per la visione e la prova su strada come facciamo noi di solito possibilità di ritirare il vostro usato possibilità di pagamenti rateali a tassi agevolati quindi potete chiedere anche per un pagamento rateale potete andare tra l'altro sul nostro sito diretto autosani.it visitatelo perché è molto bello troverete tutte le informazioni più specifiche su questa vettura e tutte le nostre altre proposte sull'usato e sulle vetture volkswagen audi aziendali a questo punto come il nostro solito vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo e come diciamo sempre alla prossima vettura